Ciao, sono Raffaella qui dalla sede dell'Africa Chiama. Oggi è un giorno speciale, è il primo dicembre, è la giornata mondiale contro le DS. L'Africa Chiama ha deciso di fare qualcosa in modo concreto, ha deciso di fermare i lights sul nascere. Nella baracopoli di Soweto, alla periferia di Nairobi, in Kenya, abbiamo attivo un programma, si chiama Mamma Bambino, sostiene le mamme durante la gravidanza e i bambini nei loro primi mesi di vita, permettendo loro di ostacolare la trasmissione del virus dell'HIV dalla mamma al bambino. Oggi anche tu puoi fare un gesto concreto e celebrare questa giornata insieme a noi. Scegli uno dei gadget natalizi che sono presenti nel nostro sito internet e che andranno a sostegno della campagna a mille giorni di vita. Insieme potremo fare tanto e fermare i lights sul nascere. Grazie. Grazie.